I think that the information is legit Eh? Cioè ma ho fatto incidenti peggiori, qui non sono scherzato di fuori, e Pacchi è sempre lì? Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, altra misura di GTA 4, me lo dico sempre Nella scorsa siamo andati a uccidere un obiettivo per Francis McCreary L'errore non è stato tanto il fatto di aver magari fallito la missione e essere morti, no Perché la missione è andata dritta, liscia come l'olio L'unico problema è che abbiamo fatto una missione che viene tipo 5-6 missioni dopo quella che dovevamo fare Infatti all'inizio ho detto andiamo da Patrick McCreary, in realtà era Francis Al che bisogna fare un passino indietro e andare dal vero Patrick McCreary E quindi ragazzi dovremmo all'inizio, tanto lo taglierò quindi per voi non è un problema Aspettare che Patrick ci chiami, nel mentre me la godo un pochino quindi niente ragazzi Ci sarà questa chiamata che ci manderà alle sue missioni, andiamo Come vedete infatti c'è Francis McCreary qui, c'è Playboy X Ma noi dobbiamo seguire l'ordine che in realtà ho già mandato a puttane facendo una missione che non era in scaletta O almeno non era il momento di farla E quindi adesso aspetto con Gloria la chiamata di Patrick Ah eccola Perfetto Ok, perfetto Dove sta? Cioè a tornare nella vecchia isola Poiché qua non c'è un taxi manco a pagarlo E invece E invece Signori contro ogni previsione Tanto se va dietro la polizia Ah lui scende tranquillo Perfetto Andiamo da Paki Sì lo so che vi piace vedere il piaggetto e tutto quanto però Tanto poi l'editing me lo puppo io Quindi 24 dollari Patrick McCreary Album con Inga Grudge Yes Vergine dell'anno Eh irlandese Che cazzo No 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 Che poi irlandese ma c'è l'accento americano proprio puro eh Se va così a scatti ragazzi è il gioco che ha un problema e se andate su internet ci sono mille messaggi della community riguardo a questo problema Che il mio computer supporta tantissima più memoria di questo gioco cioè questo gioco ragazzi è da Windows 7 di memoria al potenziamento grafico che ti offre senza mod Solo che ha questo problema che oltre i 514 di cpu non ti va e se tu sfori con la grafica va a scatti E non posso portare nel 2021 un GTA 4 anche se vecchio nella qualità dell'Xbox 360 non posso Poiché non lo hanno fatto la remaster per PS4 e questo mi ha deluso abbastanza Ma almeno giochiamo con le postazioni grafiche al massimo se è possibile grazie Ah Ray Boccino nominato Eh Cioè ma ho fatto incidenti peggiori e qui non sono scherzato di fuori e Pacchi è sempre lì No tu non devi scendere ecco vai dietro vai dietro come un fottuto schiavo vai Vabbè questa è colpa mia Di sicuro dobbiamo prendere il ponte per andare in un'altra isola questo è pacifico Just wait Oh yeah Ray Boccino's a slimy motherfucker The one thing you can rely on him for is greed I'm too small time to be worth setting up So the one angle he can be playing is the cash Makes sense Yeah he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth But it'll be a fun night Depends on what you think is fun Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff Usual for you and me maybe The general population I'm not so sure General population? That's a prison term Fuori dai coglioni tutti quanti Fuori, 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 fuori Senza crashare No è impossibile Gli sto chiedendo troppo Tanto ormai sta macchina qua Ha fatto il suo corso Ecco l'adio scatti Siamo quasi arrivati Forse questa macchina ce la fa All right Fare un'orgia Ecco qual è il piano Ok forse mi ricordo benissimo sta missione Cioè da entrare qua dentro e arrampicarsi da qualche parte Sì Proprio sotto il ponte di Brooklyn Ok lo so Lo so Lo so Lo so Poi qui sopra No Bravo Praticamente questa missione mira a farti apprendere come arrampicarti Torinturon 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 Triangolo per lasciarsi andare Wow No No Tipo lo spingo giù Tipo spingo Paki giù No Non posso Peccato Tu devi premere il quadrato di nuovo una volta che si aggrappa Che brutta cosa GTA 5 ho fatto dovrà solo This is where the deal's meant to be going down And here's the boat right on time See those boxes on the back of the boat They must be bringing clone meds Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood, meds, mollies, sedatives, antidepressants, meds Quante volte ha detto meds? Beh dai, pretty easy Scegliere dall'altro che dà sul mare per arrivare a terra, ok Che la roba dovrebbe essere già sul camion Anche se, a vedere le scatoline non sembrerebbe Ma, ma wow, che novità Ovviamente tu dalla sopra non mi aiuterai per un cazzo, quindi devo fare tutto io Merda Pachi, pachi, però mi devi aiutare Eric, ricarica Merda, è frastornante però L'altro, l'altro Fuori Don't fuck with my family Diceva Bisogna prendere un giubbotto io Ah, vuoi proprio Cogliermi manco Eh, ma anche io, insomma, non scherzo Come è possibile che la testa non muoia? Lui ha la testa, non muore Lui ha la testa Oh, lui muore Niente Questo è il piano petto, non è morto Tirerei anche una molotov Ma distruggo il camion Quindi, insomma, è un po' controproducente la cosa Fuori Tra l'altro, lui mirava a pachi Troppo tardi Forse c'era uno di qua No Sì, c'è Basta, finiti Finiti, camion Mamma mia Mi è saltato il cuore, ragazzi Andiamo E' bello che lui non prova Quello lì Neanche a tirarmi giù dal camion No Sta lì a sparare la cieca Dimmi che ti apri Bravo Ho bisogno di un kit Medico Ma tipo Prima di subito Eccole le merde No, no, no Non sparatemi Per favore Sparate a pachi Sparate al camion Sparate a vostra madre Ma non sparate a me Mamma mia E' taxi Il traffico di merda No La polizia Ciao Vabbè Questa volta L'ha fatta funzionare Per dimostrarmi Che funziona Insomma Che si può fare Però la prossima volta Ho le tiro adesive O lo ho nel culo Anche questa volta Funzionerà Più o meno No Invece si è funzionato La prossima non funziona Proprio La prima ha funzionato La seconda metà La terza non funzionerà Proprio Comunque sia Siamo ultra arrivati Eccoci qui Ecco cos'era Mi chanel Mi chanel Niko Niko C'è un saviu Devono C'è un savi Ma Mi chanel Alpo Ti Sì U Ok, ci siamo, signori Ok, allora la prossima è da Patrick ancora Ci fosse un taxi Ma non uno, anche mezzo Tu, tu sei Un taxi palpabile Fanzi, spachi E chiudiamo la missioncina Mi stanno succedendo un casino di soldi, 39 Vabbè, ci siamo, signori Grazie della visualizzazione Lasciate like e iscrivetevi al canale Che per me, ripeto, ragazzi, è importantissimo Ci vediamo alla prossima Con un'altra avventura di Nico Bellic Like, iscrizione, campanella Bacione